Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come vedete sono in barca in mare e oggi andremo alla ricerca di sugarelli, sgombri e quello che viene con il metodo dei sabichi e del metal jig dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti tante belle catture vi aspettano e dunque direi di superare i 120 mi piace per un prossimo video in barca, magari urate magari ancora sugarelli vediamolo qua sotto nei commenti e dunque direi via con la sigla e Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Una cheppia ed un'acciuga con i sabicchi Mai successo! Cioè, acciuga forse sì, ma cheppia fuori così a 2-3 miglia no! Proviamo a prendere un'altra! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Buongiorno! 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 E ha mangiato! Buongiorno! Mangiano sempre sui soliti! Di solito i tre... Dal secondo terzo più alto in poi... Ma di solito il secondo e il terzo sono i più gettonati come ami... Dal basso! Buongiorno! 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 ancora mangiano sempre sui soliti di solito i tre dal secondo terzo più alto in poi ma di solito secondo e terzo sono i più gettonati come ami dal basso ho visto la canna tutta piegata l'ha presa proprio di cattivere forse ce ne ha mollato anche un paio perché per piegarsi così ce ne vuole quindi prendiamo il succo e ci rimetto il piamo da 150 grammi piamo da 150 grammi che tra l'altro è anche un più 150 grammi adesso bisognerà gestire anche i cambi di profondità quando fare qualche giro in più puoi mollare un pochino io per questa tecnica come vedete uso due canne da seppie con una portata da 150 grammi sto pescando su 8 9 metri di fondo e soprattutto l'utilizzo a casting un filo dello 0,35 0,40 che è il giusto compromesso tra robustezza e poche elasticità cioè è un filo abbastanza grosso comunque per i pesci che andiamo prendendo ma magari può capitare qualcosa di grosso qualcosa che tira come un palombo è un uccello o qualcuno di pesca? e dunque in questa pesca io cosa faccio? metto le canne sui lati è la stessa che facevo col kayak metto le canne sui lati appoggiate c'è questo picchetto adesso a suo posto e sfrutto quindi il movimento laterale e avanti indietro delle onde per far muovere automaticamente le canne in modo giusto e quindi riservarmi una pesca molto tranquilla che posso star qua seduto a guardare le punte tranquillamente come se fosse una pesca normalissima a fondo e non star la a far su e giù tutto il tempo soprattutto adesso che non avendo un ecoscandaglio non è che posso star la mezz'ora magari a far su e giù su un posto dove non c'è neanche un pesce e invece magari mollare proprio sul branco di pesce così anche una pesca un po' di ricerca mi permette magari di lanciare a spinning fare altre cose magari sistemare qualcosa è una pesca molto rilassante per me perchè è una pesca che posso star tranquillo mi basta dare un'occhiata alle canne ogni tanto e vedere se mangio piombi come detto adesso prima ho potuto usare anche 40 grammi di piombo stando fermo ma con lo scherrozzo è una barca che viene tirata avanti tra onde e corrente come vedete i 150 comunque fanno fatica a tenerla al corrente quindi no scusate 120-125 150 la portata alla canna quindi si è una pesca molto semplice facile da fare che permette anche di divertirsi senza star la ad annullarsi anche perchè è molto divertente il sugarello e lo sgombro che tirano quindi sono anche delle belle mangiate tutto con il sugarello che arriva di botta sull'esca è sempre bello no scusa ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci sarà un sugarello imbastco ah uno piccolino andiamo e li lasciamo ecco no non ci sono tante banche sono molto ferita dai 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 sembra grosso sembra o più umido di un pesce o sembra bello grosso oh una cappia un'altra cappia vediamo che mi sto trovando i branchi di cappia sotto sembra un torpone ah no cazzo è una cappia infatti non stavo capendo perchè non aveva la macchia classica infatti mi ha confuso leggermente quindi ho messo un po' di sasso comunque altra cappia per me quindi ho messo un po' di sasso e ho messo un po' di sasso non c'è una cappia ma non c'è un po' di sasso ma non c'è un po' di sasso